Ragazzi, sempre qualifero di Berlino, non mi prendete per matto, sono in uno stand, ho visto il Freaksbox vicino a dei caloriferi, non riuscivo a capire cosa fosse, in realtà ci ho messo esattamente 4 secondi, praticamente sono, adesso ve li faccio vedere, la ditta si chiama Eurotronic, Eurotronic è una ditta completamente tedesca e fa sostanzialmente sensori per controllare i caloriferi di casa e la particolarità del Freaksbox è che avendo all'interno dei sensori dei caloriferi la funzionalità DECT, il Freaksbox, per esempio il Freaksbox 7490 ha il DECT on board, può comunicare con questi sensori e poi quindi può comunicare da remoto e farvi quindi controllare la temperatura della vostra casa in completa autonomia tramite l'app sia di Freaks che di Eurotronic, insomma un prodotto interessante che probabilmente non si troverà sul mercato italiano e tra l'altro Freaksbox che io sappia è l'unica a montare la tecnologia DECT on board, quindi compatibile solo in questo caso con Freaksbox ma sicuramente con altri modem in tecnologia DECT anche se sinceramente non so se ce ne siano vabbè, da IFA di Berlino è tutto, da Eurotronic vi saluto e niente, al prossimo video, ciao ciao!